ma in che universo parallelo siamo finiti raga in che universo è ma bella raga rieccoci qua sul canale con un nuovo video su db legends e questo è uno showcase estratto dalla live di ieri sera raga mamma mia che personaggio che ci hanno dato golden frisa angel miglior sparking oggi è il primo d'aprile non è un pesce d'aprile miglior sparking mai creato mai concepito è meglio anche di moltissimi ultimi legends limite d'usciti e anche questo no non è un pesce d'aprile quindi andiamo a vederci tutte le belle cose che è in grado di fare l'imperatore oro prima di cominciare vi chiedo come al solito gentilmente un like per il supporto sulla fiducia mentre per chi fosse nuovo del canale per chi ancora non fosse iscritto contenuti nuovi su db legends tutti i giorni quindi raga iscrivetevi attivate la campanella seguitemi anche sul sito purpureo per rimanere aggiornati su quando faccio le live e prima di partire ci terrà a ringraziare tutti quelli che erano in live ieri sera ma specialmente la kiros che ha fatto versione babbo natale quindi grazie mille bro detto ciò vamonos a vederci questi 1800 match di golden frisa dove fa letteralmente spavento non c'ha senso raga non c'ha senso ma che cosa hanno creato raga io me ne vado equip per questo golden frisa raga bisogna andare sul pesante qua bisogna andare sul pesante quindi triplo awaken con il primo importantissimo a mio parere ci buffiamo ancora di più l'elt restoration oltre a metterci buoni buff sul blast attacche e sulla blast defense dopodiché abbiamo il secondo equip che ci da base strike defense base blast attacche e special move damage altra statistica importante è un ottimo base blast attacche fino a un 25 per cento praticamente e per concludere equip away che è nato giusto ieri base strike defense fino a un 20 per cento base strike attacche e special move damage anche qua fino a un 12.5 e un altro base blast attacche fino a un 25 per cento quindi raga direi che come equip stiamo messi veramente bene potenzialmente si potrebbe switchare uno di questi due se non ce li avete se volete con quello da danno puro per i frisa force quindi tipo questi una roba di questo genere però ora come ora voglio tenermi su tanti danni anche da special move e tutti i buff extra che danno sti equip qua quindi teniamoci sul sicuro raga va bene va bene va di retro e ai due verdi per non si sa che motivo va bene va bene va benissimo oh nice meno uno rapido indolore goku preso animazione rapida bene così ok e penso sia gg ormai gg potente potente questo team raga monopur monopur più un giallo quindi un falso pur falso monopur va bene e va buono ti fermi ok bro mi sembra giusto io ancora non capisco perché tutte queste strike in sto mazzo blaster in questo team blaster incassiamo incassiamo va bene prendiamoci la raga Prendiamoci la raga Uff Nice, nice Danno neutro Non male Ok, ottimo Uno, due E lasciamo Why not Bell'angelo, grazie mille per il Prime Roski Altra blast No raga, non l'avevo staccato Mi si era frizzato il computer Praticamente Ci sono, ci sono Si era bloccato il mondo Esatto, era quasi morto e ora full HP Questo è il bello La follia raga di questo personaggio Ok 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 Mettiamo revival Sì, va bene Ma perché, com'è possibile Guarda, lo salviamo Lo salviamo Lo salviamo Molto aggressivo il ragazzo Molto aggressivo il ragazzo Ok Ok Add fpf Ok Ok Non c'è il vanish Non c'è il vanish Vero? Nice Devo smetterla di andare di strike Raga Devo tipo farmi un tatuaggio Non andare di strike Quando switchi contro Goku Ultra È la mia maledizione raga Intanto risalviamolo per l'ennesima volta Hai finito No Ok Possiamo chiuderla? Possiamo chiuderla qua? Grazie Mamma mia raga Giocate mie brutte a parte Sto frisa È una bomba Raga Cioè praticamente è arrivato A non avere più HP Per due, tre volte E subito dopo Era full HP Pazzia Pazzia Vamono Steam Godkey Ok Mi è partito il tappino Sì Noise Andiamo subito ad SM Non è un gran che è baffata Ma i danni comunque Sono meritevoli Spettevoli Ah la mia verde Ok Full strike in mano raga È striker questo team Pensavate che fosse orientato sulle blast E invece no Rascino Rascino subito Sì sì Ha preso tipo le strike degli altri E ha detto Bondi Ce le prendi a noi Rubiamo le sfere Rubiamo le carte strike Quelle potete lasciarle raga Ok Ok Switch di sicurezza Aveva così Va bene Strana giocata Ok 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 Pieno di strike Nuovamente Sta roba non me la spiego Va bene Infatti è un tipo da giocate strane Sto qua raga Non c'hanno senso Ste cose che ha fatto Eppure continua a farne Quindi ho detto No switchiamo Proviamo un Vanish Che tenta di mettermi in combo Anche sta ultimate BOOM Goku Vegeta BOOM Goku Vegeta Ti buco i capezzoli Goku Vegeta VAMONOS 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 Ti scopo Team Super Saiyajindra Vieni su Pavegito Danno neutro per te Altro danno neutro Altro danno neutro Easy Oh Lucky Ross Pure una sabba regalata Grazie bro Tanca tanca Frisa de oro Oh mi sa che ti piglio Ok Ora ti riconosco Con tutte ste blast Con tutte ste blast Preso Wow Ok Lucky Ross Stress sabba regalata Bro Sei gentilissimo frate Grazie Veramente di cuore Ok Non ero io Non ero io raga Very nice Oh 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 Avete la faccia di Vince McMahon Che sta godendo da pazzi Raga Eccola E' questa Vince McMahon Vince McMahon Che gode da pazzi Raga Sono io Buca Ma ho mai switchato Raga E' tipo lo showcase di Kine Con Goku Ultra No Muori Raga Wow Wow Golden Frisa Ma cosa Cosa t'hanno fatto Golden Frisa T'hanno nutrito di steroidi T'hanno nutrito di steroidi Fin da bambino Tipo Dovete vedere questa cosa Raga Guardate questo Goku Vegeta Guardate questo Goku Vegeta Raga Raga Totalmente di Golden Frisa Verde Guardate qua Raga La stupidità di questo personaggio Raga Ma in che universo Parallelo Siamo finiti Raga Che universo è Lacky Rhodes Sei Il Number One Per Golden Freeza, grande la Kiros, grandissimo, e lo so che sto invogliando la gente a pool raga, ma guardate che cos'è Oh mio dio Yornoumi, la tua notifica sai che non è apparsa, mi sa che la devi condividere bro Tempo di chiudere una pratica E' infatti doppio giallo Error accio Error number one Ok Ok Bucagli capezzoli Bella posa Show Vados Oh 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 E meno uno Ok Bel pidi Nice pidi Ok Ok You know what is this? No, you don't. Ah, come and be here. Oh, come and be here. Oh, come and be here. Uh, what? No, come and be here. What? Come and be here. Uh, come and be here. So, come and be here. The one that you know was. non servono le parole raga le parole sono di troppo proprio raga mi spiace che vi sto invogliando a pullare su un banner di merda ma questo personaggio qua è la perfezione raga sono letteralmente senza parole in ultra space time e sei ultra space time universe survival saga volevo portarvi uno showcase a parte raga però magari possiamo anche switchare dopo vediamo vediamo danni neutri per i tuoi capezzoli va bene ehi 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 qua possono uscire belle cose raga oh qua mi sa che kill raga eh si ehi 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 e Va bene, meritato Deserved Bravo Spezziamo una sfera così tanto per Akiros 26 Va bene, bro Avvicinati FPF Swisha Sul Golden Boy Il ragazzo d'oro Il ragazzo d'oro Il ragazzo d'oro Il ragazzo d'oro Ma verrei li abbracciare Che è tipo Salvatore Conte Che dice Vietta prete o perdona È lui, è lui Un attimo prima di spararti nei capezzoli Tipo Eh, team per lui in realtà è dura Perché non è il massimo Metterlo così insieme a vecchie glorie Sennò nel Lineage of Feeble Lineage of Feeble Più Jiren Ci potrebbe stare come team Qualsiasi personaggio ormai lo metti nell'oe Lo risollevi un po' Beerus Stai tranquillo però Che è tutto Ma c'ha un limite al chi Questa persona I capezzoli di Vados Non si possono dire E per questo è morta Guardate le mie unghie nere Come sono belle Raga Sto impazzendo Sto impazzendo Raga Sto impazzendo Raga Sto impazzendo Raga Gli Gli Ma Valtimi Ok 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 Sì, bro! Ok, nippons! Nice, nice, nice Refrescino tattico Sciobro Lo lasciamo Ok, la Kiros, tra un attimo leggo bene il messaggio, l'ho intravisto, bellissimo E muori, ok, meno uno Minchia, mi ci vedo in un musical, tipo io che... Cammino felice per le strade insieme a Frisa che salta fuori, inizia a ballare anche lui E poi c'è FPF, da un angolo, lancia la sua turba